Cava dei Tirreni, così come tutta la campagna, a partire da domani, lunedì 19 aprile, torna in zona arancione. Saranno dunque in vigore regole meno stringenti rispetto a quelle della zona rossa che hanno caratterizzato le scorse settimane. Per quanto riguarda gli spostamenti, sarà dunque possibile muoversi senza autocertificazione all'interno del territorio comunale, dove è consentito inoltre uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata, in non più di due persone, oltre a un under 14 e persone disabili o non autosufficienti. Resta valido il coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino. Gli spostamenti verso altri comuni, invece, sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto riguarda le scuole, è prevista la didattica in presenza per scuola materna, elementare e media. Le superiori, invece, garantiscono l'attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentisca, mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza. L'assessore alle attività produttive di Cava dei Tirreni, Giovanni Del Vecchio, ha fatto un punto della situazione per ciò che concerne le novità per le attività commerciali. Per ciò che riguarda invece le attività commerciali, iniziamo dalle attività di ristorazione, cambia poco, perché bar e ristoranti sarà consentito l'asporto fino alle 22, con la deroga solo per i bar fino alle ore 18, perché svolgono un'attività prevalente con codice Ateco 5630, mentre per tutte le altre attività di ristorazione è possibile, fino al coprifuoco, fare servizio di asporto. Invece la consegna a domicilio è consentita per queste categorie senza limiti di orari. Per quanto riguarda un'altra novità, possono aprire tutti i negozi, quindi anche i negozi di abbigliamento potranno aprire da lunedì questo, in zona arancione, oltre a quelli che erano aperti in zona rossa. Altra novità, centri estetici e parrucchieri aperti. Questo cambio di colore è stato motivato, grazie anche a un'incidenza settimanale su 100.000 abitanti di Regione Campania, che è di 237 casi, il limite era 250. Quindi siamo proprio al di sotto della soglia di poco, perciò occorre avere sempre prudenza, avere senso di responsabilità, autocontrollo nel rispetto delle misure che sono prescritte. Prosegue anche a Cava dei Tirreni la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Al momento, il numero complessivo delle persone che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino si aggira intorno agli 8.000. A Santa Lucia, in questo momento, sono state somministrate circa 3.300 vaccinazioni. Sono cominciate le vaccinazioni degli over 70. Ad oggi sono state convocate 1.400 persone e ne sono state vaccinate 800. mi riferisco agli over 80. A Santa Lucia, quindi stiamo andando avanti abbastanza bene. 3.300 vaccinazioni in un centro vaccinale, uno solo, quello di Santa Lucia, è un buon numero anche se la nostra spinta, man mano che aumenterà la disponibilità di vaccini e di personale, è quello di aumentare il ritmo delle vaccinazioni. Il sindaco Servaldi, inoltre, ha ribadito che per gli over 80 che non si è riusciti a contattare sarà sufficiente recarsi direttamente al centro vaccinale di San Francesco dove riceveranno la loro dose. Abbiamo aperto un terzo centro di vaccinazione che sta lavorando molto con AstraZeneca. Per cui abbiamo in questo momento AstraZeneca a Santa Lucia, AstraZeneca a San Francesco in un'area destinata esclusivamente a questo tipo di vaccino e poi abbiamo sempre, per le categorie a cui è destinato, il vaccino Pfizer. Abbiamo praticamente finito la platea degli over 80 e circa 900 over 80, quindi il 40% degli over 80, ha avuto anche la seconda dose di vaccinazione. Sono cominciate le vaccinazioni per le persone fragili e sono anche circa 70 le persone che sono state vaccinate a domicilio su una platea di 320 diritto. Qui qual è stato il problema? Che la squadra istituita dal direttore del distretto Piovecchione, coordinata dal dottore De Rosa, a un certo punto sta aspettando il vaccino Moderna, è partito, poi c'è stata una piccola difficoltà, una difficoltà nel recepimento del vaccino Moderna. E quindi c'è stato un rallentamento, ma l'operazione di vaccinazione a domicilio è in svolgimento. Inoltre, un certo rallentamento della campagna, riscontrato ultimamente, è legato in parte alla scarsa disponibilità dei vaccini Pfizer e Moderna e al contempo alla preoccupazione generata dalla possibile somministrazione di AstraZeneca. Infine, il primo cittadino ha informato della volontà di costruire un quarto centro vaccinale, ma nessuna risposta è stata ricevuta da parte dei livelli istituzionali superiori, che fanno mancare il loro sostegno delegando l'organizzazione alle autorità locali. Tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si è riunito venerdì scorso, c'era anche l'approvazione del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. In pratica, si trattava di un mero adeguamento normativo, ma per l'occasione la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Filomena Vagliano, ha presentato in Consiglio Comunale un emendamento, approvato all'anunanimità, con il quale ha proposto l'esenzione dal pagamento del canone dell'occupazione di scivoli, rampe e o pedane per disabili finalizzati al superamento degli ostacoli edilizi per l'accesso ai locali pubblici. Secondo la consigliera Vagliano, compito dell'istituzione dell'intera comunità è quello di ottimizzare l'impegno delle risorse e Cava dei Tirreni diventa in questo modo ancora di più una città europea, compiendo un primo passo per una vera svolta di città inclusiva e soprattutto una scelta di grande civiltà. I revisori mi hanno dato parole favorevoli, sia l'ingegnere Collazzo, che ringrazio tanto Stefano Cicalese per aver lavorato insieme a me, affinché fosse possibile dare un cambio di passo. La disabilità e le barriere architettoniche non sempre devono viste, soprattutto per chi magari è all'impiedi. Molte volte non ci rendiamo conto di quanto possa essere ostacolativo poter accedere o poter visitare qualsiasi tipo di servizio. Non parlo solamente di persone con disabilità o in carrozzina, ma anche magari per qualcuno che spinge un carrozzino. La possibilità di poter entrare dovunque per poter vedere e visitare non è un capriccio, ma dalla possibilità di quell'inclusione e di quell'autonomia che tutte le persone necessitano. Credo che questo sia di continuità con quello che ci siamo precedentemente detti, di essere baluardo come capa città inclusiva, veramente come città europea. E voglio ricordare a tutti quelli che magari in questo momento ci stanno ascoltando che facendo un giro per la nostra città possiamo vedere quanto molte volte siamo inadeguati. Le barriere sono prima di tutto culturali, se noi avessimo un occhio diverso potremmo sicuramente sensibilizzare anche le persone accanto a noi e credo che questo sia un primo passo, sicuramente un piccolo passo rispetto alle grandi cose che si possano fare. Chiedo quindi agli esercenti, ai commercianti tutti di accogliere questa possibilità e di poter dare veramente una svolta in quello che può essere l'accesso veramente libero per tutti. Due cittadini di Vietri sul mare sono finiti nei guai nell'ambito di un'articolata attività condotta sulle zone sottoposte a vingolo paesaggistico dai carabinieri della locale stazione diretti dal maresciallo Antonio Fogliame nell'ambito del contrasto dell'abusivismo edilizio, fenomeno da sempre molto sentito nei paesi della costa d'Amalfi. Il reato contestato in due diverse occasioni è quello di realizzazione edilizia in difformità ad autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel primo caso è stata deferita una donna che ha realizzato un vano finestra abusivo nella propria abitazione di residenza nel centro storico di Vietri sul mare, non previsto nel permesso a costruire. Nel secondo caso si tratta di un uomo, sempre residente a Vietri, che senza alcuna autorizzazione ha reso abitabile il seminterrato della propria casa, oltre ad aver realizzato un marciapiede, un manufatto in muratura di 15 metri quadri ed un pollaio. I controlli dei carabinieri continueranno nello specifico settore, anche e soprattutto a tutela della sicurezza delle abitazioni e del paesaggio naturale. Al via il piano di promozione culturale della Regione Campania per l'annualità 2021, iniziativa atta a sostenere quei progetti interessanti che vogliono favorire la diffusione della cultura, del pensiero filosofico, storico, artistico e scientifico, soprattutto se legati alle tematiche di interesse generale e di dibattito socioculturale. L'importo complessivo stanziato dalla Regione Campania è di 1.399.000 euro e prevede contributi annuali ordinari e contributi speciali. Possono partecipare al bando enti, associazioni e fondazioni, iscritti nell'albo regionale di promozione culturale, ma anche quelli non iscritti che abbiano però, tra gli scopi principali, la promozione della cultura nel territorio campano. Inoltre, possono partecipare in qualità di partner qualificati gli enti locali e gli enti pubblici attivi sul territorio regionale. Si ricorda inoltre che tutte le attività promosse devono essere realizzate nel rispetto delle misure di distanziamento e di contenimento del contagio da Covid-19, per cui è prioritaria alla realizzazione di eventi a distanza, quali mostre virtuali, videoconferenze e attività di digitalizzazione. Un'attenzione particolare potrà essere data agli eventi di commemorazione degli anniversari di rilievo culturale che ricorrono nel 2021, come il centenario dalla morte del celebre tenore Enrico Caruso, il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, nonché il centosessantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. Sono ammesse a contributo esclusivamente le attività relativi al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 e che devono essere svolte in Campania e rivolte alla valorizzazione del territorio campano. Infine, le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il 31 maggio 2021. La Cavese Under-19 si è imposta ieri pomeriggio appreggiato sui pari età della Paganese nella prima giornata di ritorno del campionato Primavera 3. I giovani metelliani, guidati da Gaetano Perrella, hanno vinto la prova di forza con la compagine di Salvatore Matrecano e si sono così mantenuti al primo posto nel girone F, lasciando gli azzurro stellati al secondo posto ma con 4 punti di ritardo. 3-1 il risultato finale per i metelliani. Come vedete dalle immagini di Fabio Polverino, la squadra di Perrella è andata in vantaggio per prima al ventitraesimo grazie a un rigore trasformato da Bocchetti e accordato per fallo di Orta su Mirante. Al trentesimo segna il 2-0 Orefice su servizio intelligente di Digilio per il 2-0 della Cavese. La Paganese due minuti più tardi resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Carannante per doppia munizione, ma comunque realizza il gol della Speranza con Molisso, autore di un bellissimo tiro da lontano. Traversa degli ospiti allo scadere con Cavallo e si rimane parzialmente sul 2-1. Nella ripresa, dopo che Cavallo aveva colpito un secondo legno, arriva il terzo gol della Cavese. Altro rigore ai Biancoblu. Anche stavolta il duello è tra Orta e Mirante e trasformazione vincente di Naddeo. Però al sessantasettesimo anche i Biancoblu restano in dieci. Rigore concesso per intervento irregolare di Palladino su Rossi, proteste di Francese, difensore Metelliano che era già ammonito ed espulsione. Dal dischetto prova per la Paganese Zerlenga, ma Caputo para la conclusione. Paganese sfortunata, terzo legno di Cavallo. Gli azzurro stellati finiscono la partita sotto per 3-1. Sabato prossimo la Cavese Under-19 andrà a Castellammare di Stabbia per affrontare i pari età della Juve Stabbia e lì cercherà di rafforzare il proprio primato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.